Questo dato che sentivo l'altro giorno mi ha molto colpito. La Banca d'Italia dice che il nostro paese avrebbe bisogno ogni anno di 200.000 immigrati, il che significa che se ci fosse maggiore organizzazione, se ci fosse un aiuto serio da parte dell'Europa, avremmo una ricchezza in più e avremmo meno sofferente, molto meno sofferente e meno morti. Dati ufficiali che non tengono conto di chi è di passaggio o sfugge alla macchina dell'accoglienza organizzata, dati che in tutti i casi sono destinati a crescere e entro l'anno, assicura il biminale, le persone da accogliere arriveranno almeno a quota 200.000. Di 200.000 immigrati. 200.000. Le bambino è stato un paese che ha lasciato l'Italia, che ha immigrato in altri paesi, soprattutto negli paesi dell'America. E allora ci ha dato il bisogno di guardare gli altri che vogliono venire in Italia con una totale apertura di cuore. e di dare ai persone che vengono in Italia la possibilità di lavoro, la possibilità di una casa, la possibilità di una scuola per loro figli e la possibilità di un benessere che abbia anche la salute, l'apertura di tutti i nostri paesi per le loro necessità. E questa è la politica di mio governo. Tu credi che in Italia potrei avere un futuro migliore, potrei trovare un lavoro? Speriamo sì, perché, ascoltate, qui posso pagare meglio. Lavoro un mese, due mesi, un mese, la paghi 1000 euro, 1000 euro, 1000 euro, scusi. Ma da noi no, sono 300 dinari per mese, sono 150 euro. Che cosa posso fare? La vita non costa caro da noi, vero, ma non paga bene. A suo modo, questo ragazzo fa capire bene cosa stia succedendo. La caduta di Ben Ali è stata per molti un'ottima occasione per venire in Italia, sfruttando la possibilità di ottenere lo status di rifugiati, ma il motivo che li spinge è essenzialmente economico. Non mi dici perché è tanto importante il numero dei disoccupati? No, a fila. Come vuoi. Più occupazione significa meno persone che cercano lavoro, è più difficile trovare qualcuno per coprire i posti vacanti, perciò bisogna aumentare i salari. Ad oggi uno dei motivi per cui in Italia, soprattutto il talento, è sottopagato è perché le aziende si possono permettere di assumere chi vogliono perché c'è mancanza di lavoro. Questi sono i dati che sono stati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico in questa brochure Invest in Italy. Eccolo qua, il salario medio degli ingegneri, noi siamo a livello più basso di tutta Europa e poi ancora il salario massimo degli ingegneri, anche qui siamo a livello più basso. Renzi ha detto che questo è un fattore di competitività. Gli spiegai la meccanica vera sul numero di prodotti da fare, su quali prodotti fare, gli spiegai che sono i consumatori che fanno il prezzo di un prodotto, che se uno fa bicchieri deve farli ad un prezzo per cui riesce a vincere la concorrenza. E quindi è il mercato che fa il prezzo a cui si può vendere un prodotto. Non le faccio capire come un po' avviene la porcata del grano. Alessandro Chiarelli è il presidente di Coldiretti Sicilia. Per lui le grandi disponibilità di materia prima che arrivano dall'estero servono proprio per tenere basso il prezzo del grano italiano. Nel momento in cui noi iniziamo la campagna di trebbiatura, 20 giorni prima, 15 giorni prima, sapientemente arrivano due grossi mercantili con migliaia di toni. Ma secondo lei non è un caso? Ma non lo è mai un caso, perché è chiaro che dove c'è maggiore offerta di prodotto, c'è minore richiesta. In base a sé che queste navi non attivano sole, non è che ci sono dei missionari che la mattina partono e si presentano a consegnare il grano gratuitamente per i poveri del sud. Qua c'è una regia internazionale che decide dove mandare le navi nei periodi sapientemente, col gioco delle tre carte, qui stanno producendo, gli mando la nave, blocco del prezzo, la basso. C'è una regia, c'è una strategia internazionale. In Tunisia ora le cose non vanno bene, cerchiamo lavoro. L'Italia è un buon paese. Quanto avete pagato? 1500 euro. E quanti eravate sul barcone? Sulla barca. 115 persone, eravamo in difficoltà. Ci hanno salvato. E' salito oltre mille il bilancio delle vittime del palazzo, crollato alla periferia di Dhaka, in Bangladesh, il 24 aprile. I soccorritori hanno estratto altre decine di corpi dalle macerie del Rana Plaza. 2437 i feriti, di cui un migliaio, in modo grave. Ancora imprecisato il numero dei dispersi. Gli scavi sono arrivati all'uscita dell'edificio al pian terreno, dove molti operai si erano accalcati ai primi segni di cedimento dello stabile, sede di numerose fabbriche tessili. Sembra che al momento del crollo l'uscita fosse chiusa. Prosegue intanto il riconoscimento delle vittime. Un'operazione difficile, dato che molti corpi sono in avanzato stato di decomposizione. Seppellite in fosse comuni oltre 150 persone. L'identificazione di più di 100 cadaveri avverrà con l'esame del DNA. Nel palazzo lavoravano circa 3.000 operai. Alcuni di loro venivano pagati meno di 30 euro al mese. Allora ti dico, ti faccio questo esempio. Io sono stato testimone, lo abbiamo anche messo sul blog, di Frattini e della Bonino. Uno commissario e l'altro, Frattini era agli esteri, come adesso. Vede, la Bonino ha fatto un discorso quando è entrata la Romania. La Romania entra in Europa. Noi avevamo la possibilità, senza essere raggisti, ma bastava essere obiettivi, avevamo la possibilità di prendere una moratoria come la Germania, come la Spagna, come la Francia, dicendo abbiamo i 300 milioni di finanziamento, prendiamo una moratoria un po' di tempo e organizziamo l'ingresso di 25 milioni di persone, tra cui sapevamo bene che c'erano i Rom, c'erano i Ziga, c'erano queste persone. Li organizziamo. Noi li blocchiamo. Li organizziamo. Invece la Bonino ha fatto un discorso evangelico, ha aperto le braccia, noi dobbiamo prendere tutto. Allora io mi sono commossa, cazzo, la regione di la Bonino, ci sono cadute. E cosa dobbiamo bloccare, cazzo? Siamo tutti dell'Europa, cosa dobbiamo bloccare? Ci arrangeremo. E poi non era così, non era un discorso evangelico. C'era un cambio. C'era un cambio di soldi contro flussi di zingari. C'erano 26 mila aziende che dovevano andare in Romania, finanziate dall'Unione Europea con i nostri soldi. E noi mandavamo le aziende là e di contropartite ci mandavano 260 mila euro qui. De Gasperi firma un accordo con il ministro belga Van Acker che prevede l'acquisto di carbone a un prezzo di mercato favorevole in cambio dell'invio in Belgio di 50 mila lavoratori italiani destinati al duro e pericolosissimo lavoro in miniera. Fra il 46 e il 57 in Belgio arrivano 140 mila lavoratori italiani. Il contratto prevede 5 anni di miniera con l'obbligo tassativo, pena all'arresto, di farne almeno uno. Il primo ministro belga Achille Van Acker che alla fine del conflitto ha lanciato la battaglia del carbone riportare cioè il paese alla capacità produttiva anteguerra riesce a promuovere una convenzione con il governo italiano di De Gasperi e il benestare degli allora alleati Togliatti e Nenni. Il primo impatto con i flamani erano un po' i belgi, i flamani, i flamani... erano un po' difficili perché voi altri italiani venite a levare lavoro a noi. Loro arrivano per fare un po' i crumiri. Loro non lo sanno ma saranno considerati così e per questo quando i treni arrivano dall'Italia gli italiani non scendono nelle stazioni come Aliegi, Leghim, eccetera ma scendono nelle stazioni di merce. Perché? Per non farli vedere dai belgi che sono molto bene sindacalizzati e che cercano di mantenere le condizioni di lavoro e di stipendia a un livello assai alto. Nel 1946 c'è dunque un accordo tra il governo italiano e quello belga perché la mano d'opera presente qui in Belgio rifiutava di ancora andare nelle miniere in quelle condizioni fissate dal patronato belga. Per l'Italia il vantaggio è prima di poter far uscire ogni settimana 2000 giovani italiani senza lavoro e di diminuire la pressione sociale perché c'erano dei movimenti sociali molto forti e di più dal punto di vista economico ci sono due vantaggi il primo sono le rimesse dei migranti che fanno tornare questo denaro in Italia che permette, se ci sono 6-7 giovani in un paese permette a questo paese di sopravvivere c'è stato un processo di Marsinel nessuno era colpevole di niente invece le responsabilità erano forti erano della non esistenza di un'educazione dei nuovi minatori alla vita delle miniere il giovane che è stato all'origine della tragedia era un giovane italiano appena arrivato che non conosceva bene i segnali eccetera e poi era una miniera conosciuta come vecchia come pericolosa la tragedia di Marsinel si svolge il 8 agosto il 10 agosto c'è già un articolo nel principale quotidiano di Bruxelles che si chiama Le Sois che dice adesso dobbiamo trovare altri mercati di mano d'opera meno esigenti degli italiani e dunque nel 1956 si firma un accordo con la Spagna di Franco con la Grecia e poi quando questi paesi saranno diventati anche loro troppo esigenti sarà l'accordo del 1964 8 anni dopo Marsinel con il Marocco e la Turchia per far venire altri minatori quasi tutti malati di silicosi alcuni diventavano proprio sordi perché il carbone entrava anche nelle orecchie nella vista se uno, un anziano minatore non moriva veramente soffocato come è stato il caso di mio papà alle vedove non venivano riconosciuti che erano deciduti per malattia professionale professionale